L'amministrazione comunale della città di Agropoli, guidata dal sindaco Adamo Coppola, intende rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di legalità presenti con sistemi di videosorveglianza nei punti nevralgici di ingresso ed uscita nel territorio comunale, nonché in alcuni punti sensibili e più soggetti ad atti di delinquenza e vandalismo. L'obiettivo è quello di prevenire, contrastare e reprimere la criminalità sempre più diffusa con particolare riguardo ai reati predatori. Con l'installazione di un organico sistema di videosorveglianza in diversi punti della città, si andrà ad implementare le strutture già esistenti nelle principali aree di accesso al territorio comunale, nonché al centro abitato, fanno sapere da Palazzo di Città. Per la realizzazione di questo progetto, il Comune di Agropoli dovrà sottoscrivere con la Prefettura di Salerno un patto per la sicurezza urbana. Il patto prevede l'accesso a specifici finanziamenti pubblici subordinati alla presentazione di progetti da sottoporre all'approvazione da parte del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'Ufficio Polizia Municipale Agropolese ha redatto e trasmesso la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione per un importo complessivo a 195.000 euro circa. L'opera sarà inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022.